Allora, noi abbiamo in questi anni rafforzato e sviluppato l'offerta formativa che ormai ci caratterizza e che ci ha consentito di aumentare dal 2012-2013 ad oggi il 49% di iscritti. Quindi noi abbiamo due corsi di laurea triennali, un corso di laurea in scienze ed educazione e della formazione che, come voi sapete, alla luce della legge Iori, oggi per fare tutti i lavori che riguardano il professionista ed educazione sarà necessaria la nostra laurea. E un corso di laurea in lingue per l'impresa e per la comunicazione interculturale. Quindi sono due corsi di laurea che stanno andando molto bene e che soprattutto, come dire, si stanno sviluppando cercando di dare ai nostri studenti non solo un sapere tradizionale, cioè legato alle discipline, ma anche un sapere che consenta loro di acquisire quelle competenze che sono fondamentali nella ricerca del lavoro. Quali sono le novità? Rafforzare, dal punto di vista delle lingue, lo sviluppo dell'apprendimento della lingua cinese. Noi abbiamo rapporti con alcune università cinesi che hanno qui sede e che hanno messo a nostra disposizione un professore pagato dall'università per insegnare i cinesi a noi, così come 29 borse di studio che noi abbiamo messo a disposizione per gli imprenditori riettini per andare a fare una summer school in Cina su questi temi. Dall'altro, scienza educazione e scienza da formazione, noi quest'anno abbiamo distinto tre curricula, uno finalizzato all'educatore dell'infanzia, uno finalizzato all'educazione degli adulti alla formazione e l'altro educatore socio-pedagogico. In più sono aperte le iscrizioni per tutti quei professionisti che lavorano nel settore educativo ma che non hanno il titolo e che diventano obbligatori con la legge IORI, cioè i cosiddetti 60 crediti. Che università siamo? Anche questo conta molto perché, come dire, il mondo del lavoro cerca sempre più laureati in università che hanno un preciso riconosciuto e dall'altro come, quindi, le nostre iscrizioni sono interamente online. Quindi uno va nel sito www.unisi.it e può fare tutta l'iscrizione online. Però questo, come dire, noi mettiamo a disposizione anche due servizi presenti per tutto il mese di luglio, agosto, a parte 15 giorni, e settembre. Abbiamo il punto info point che nel lato dell'apparazione dell'orologio potranno sempre trovare degli studenti tutor che spiegheranno loro come si fa a iscriversi, a che cosa si vogliono iscrivere e risponderanno a tutte le loro domande, sia loro che ai genitori o ai familiari che vogliono partecipare al colloquio. In più, noi docenti abbiamo un calendario, anche questo troveranno le date online, dove siamo disponibili ad incontrare gli studenti, le studentesse e le loro famiglie per chiacchierare, informarli su quella che è la nostra offerta formativa, ma quelli anche che sono i nostri servizi, perché, come dire, un'università non è fatta solo di offerta formativa, è fatta di biblioteca, è fatta di Erasmus, è fatta di tirocini all'estero, è fatta di occasioni di apprendimento, di competenze trasversali. Poi, come voi sapete, l'offerta formativa di Siena a Suarezzo non si ferma a due corsi di laurea più alle due magistrali successive, una in scienze per la formazione, una consulenza e una in scienze filosofiche e storiche, ma prevede i tre corsi di laurea per le professioni sanitarie, a numero chiuso, e il corso di laurea in economia interamente fatto in tele didattica. Una tele didattica in presenza, per cui i studenti di Arezzo potranno iscriversi a Siena e frequentare da Arezzo nel momento in cui i professori fanno lezione a Siena.